ma torniamo a Baxter lo specialista della CIA ideò infatti un altro esperimento anche questo destinato a ribaltare le comuni idee sulle piante un campione di sei persone fu raggruppato al di fuori di una stanza dove invece furono poste l'una poco lontano dall'altra due piante della stessa specie estratta a sorte una persona del campione gli fu ordinato di infierire brutalmente su uno dei due vegetali distruggendolo completamente l'altra pianta collegata alla macchina delle verità sarebbe rimasta per così dire a guardare compiuto il delitto le persone coinvolte nel test furono introdotte una dopo l'altra nella stanza tra esse si celava l'assassino in presenza di cinque di loro la pianta testimone rimase completamente indifferente ma quando il sesto soggetto entrò nella stanza il grafico elaborato dalla macchina della verità oscillò violentemente si trattava proprio dell'assassino come aveva potuto la pianta riconoscerlo quando passò ovviamente l'individuo assassino la pianta testimone riuscì a indicare in maniera chiara e netta chi era l'assassino della pianta quindi è stato dimostrato che la pianta siccome aveva visto la sua collega morire aveva immagazzinato questo terrore le piante infatti avvertono i pericoli e a